Signore Signore sono qui ai tuoi piedi Signore voglio amare te Accoglimi, perdonami La tua grazia e fondi su di me Iperami, guariscimi E in te risorto per sempre io vivrò Signore sono qui ai tuoi piedi Signore chiedo forza a te Signore sono qui ai tuoi piedi Signore chiedo forza a te Accoglimi, perdonami La tua grazia e fondi su di me Iperami, guariscimi E in te risorto per sempre io vivrò A presto A presto A presto Grazie. 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 Invochiamo oggi, con rinnovata fiducia, la Divina Misericordia per tutti i nostri peccati. Signore Gesù, Agnello immolato per la nostra salvezza, abbi pietà di noi, Signore e pietà. Signore Gesù, Lampada della nuova ed eterna città di Dio, abbi pietà di noi, Signore e pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amén. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che doni alla Tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa e in meriti alla gloria di tutti i Santi, concedi al Tuo popolo che, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, a noi arrivi l'abbondanza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vedi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò una voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremmo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti cantide e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e i quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi «Signore mio, tu lo sai». E lui «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole cantide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. E lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. «Chi potrà salire il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe». Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rilato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, 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 il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava a loro, dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordie. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore Questo brano del Vangelo è la prima lettura scritta da San Giovanni, Assieme alla seconda lettura, sono un capolavoro di insegnamento, di sapienza, perché ci consegnano delle immagini che vanno oltre le parole apparentemente difficili del Libro dell'Apocalisse e anche del Vangelo di Matteo. Parole che, se ci fate caso, noi facciamo fatica a interpretare, se non dicendo alla fine cose molto, molto scontate, che non danno ragione, sia del significato delle parole in quanto tali nel Vangelo o nel Libro dell'Apocalisse, sia dell'intenzione di Giovanni e di Matteo. Ecco, vedete, questa giornata dedicata a tutti coloro che sono stati benedetti dal Signore nel corso di questi due millenni, fondamentalmente, di storia del cristianesimo, è una giornata che ci parla di persone scomode, meglio di persone che sono state scomodate, di persone che sono state chiamate a muoversi per lasciare un posto e raggiungere un altro, sia a livello geografico che a livello di testa e di cuore, perché la chiamata di Dio è sempre apportatrice di novità e queste persone sono un esempio di come la chiamata di Dio porti una novità e la santità si vede quando una persona, spostandosi, muovendosi, crea una novità, una cosa nuova, non pasta guadiata, insomma, ma una realtà vera e propria di zecca nuova. Abbiamo sentito nella prima lettura le parole di questa visione in cui si vede che c'è una serie di persone che procedono, cioè fanno una processione per essere sigillati, per essere marchiati con un sigillo e attraverso questo costituire un gruppo nuovo, totalmente nuovo, destinato a dare gloria al Signore nella sede del cielo. Che significa? Significa che ci sono delle persone mentre viviamo, mentre facciamo la nostra vita, in nostro passaggio sulla Terra, che hanno una chiamata speciale a ricevere questo sigillo. E queste persone sono coloro che bagnano la loro vita, lì si parla di vestiti, nel sangue di Gesù Cristo, cioè sono persone chiamate a dare la vita per Gesù Cristo. Non semplicemente fino al martirio di sangue, ma soprattutto attraverso la testimonianza, il martirio e il sacrificio quotidiano. Perché martirio non è semplicemente quando si viene uccisi con armi da fuoco, ma martirio è soprattutto quando si viene attaccati ingiustamente con armi diciamo molto convenzionali, molto comuni, sguardi, dicerie, occhiate, eccetera, eccetera. Solo per il fatto che si è innamorati del Vangelo di Gesù Cristo e giustamente lo si mette in atto. Solo per questo. Questo fenomeno che scatena l'invidia purtroppo è il segno più concreto per quello che sappiamo della chiamata di Dio. Quando c'è qualcuno che invidia chi fa del bene vuol dire che chi fa del bene è chiamato da Dio. E l'invidia è la prova del nome. Non aspettiamoci applausi, non aspettiamoci consensi, osanna a destra, a sinistra, aspettiamoci ecco il senso delle beatitudini, aspettiamoci persecuzioni, aspettiamoci ingiustizie, aspettiamoci guerre. che cosa vuol dire aspettiamoci però vivere questo tempo presente con la mania di persecuzione? Vuol dire questo? Vuol dire guardarsi le spalle anche se si è da soli? Vuol dire vivere una vita andando al contrario piuttosto che andando avanti? Gesù Cristo è tutto quello che ci serve l'essenziale l'unico l'unico è l'unica cosa che il Padre ci ha dato e ci ha detto quando Lui parlava quando Lui faceva quando Lui anche se non parlava e non faceva era da solo c'era sempre qualcuno che andava a scomodarlo una volta erano i farisei una volta erano le folle una volta i discepoli e non ha vissuto in pace tra virgolette in pace fin quando non è stato ucciso ed è risuscitato che significa questo? che già nella sua vita ha sperimentato la chiamata del Padre è stato scomodato e per questo è stato santo si è lasciato santificare e ha celebrato Dio nella sua vita come santo e questo è molto importante perché il Vangelo dal momento che dice beati quelli che beati quegli altri che ci viene da pensare che ci sarà un premio ci viene da pensare che in questa vita dobbiamo sopportare e poi un domani qualcuno ci darà un premio niente di più falso niente di più assurdo noi non riceveremo nessun premio il nostro premio già ci è stato dato nel sangue di Cristo nel sacrificio di Cristo e se io e tu ci impegniamo per ricevere il premio stiamo sbagliando parrocchia stiamo sbagliando religione stiamo sbagliando vita stiamo sbagliando film diciamola come vogliamo non è questo il nostro posto alla luce del sangue di Gesù Cristo che poi non è così luminoso come si può pensare attraverso queste parole ma di fatti coloro che lo indossano le vesti lavate nel sangue portano il colore di bianco alla luce di quel sangue luminoso nel senso che dà la vita noi possiamo riequilibrare anche certi nostri modi di dire si diventa santi perché uno si impegna si diventa santi perché Dio sceglie e gli altri li esclude si diventa santi perché forse a un certo punto della vita uno ha un colpo di fortuna mette la quarta e supera gli altri che cosa c'è dietro questa chiamata la santità la vita ordinaria c'è la vita di Abramo che aveva tante cose e Dio gli disse lasciale io sarò la tua eredità c'è la vita di Isacco figlio di Abramo figlio unico da parte di Sara ma non da parte di Abramo perché c'era un altro fratello avuto con la schiava c'è la vita di Giacobbe che per sette anni è stato inseguito dal fratello che lo voleva ammazzare e siccome Dio lo aveva scelto gli aveva dato la forza di rispondere a lui a Dio in persona non solo si salvò la vita ma rese benedetta quella dei suoi figli fino ad arrivare a noi poi c'è la vita di Mosè vite ordinarie Mosè vice faraolo con tutti i titoli e le cariche il tuo popolo non è questo è quello scomodati perché ho un progetto e poi c'è la vita di tutto il popolo che ormai credeva che il faraone fosse il Dio degli ebrei e non voleva lasciare l'Egitto non voleva e viene chiamato ad uscire a scomodarsi nella nostra vita quotidiana che cosa siamo stati in questi ultimi giorni in queste ultime settimane chiamati a lasciare a mettere da parte a consegnare a nonne sopravvalutare che cosa il Signore ci sta facendo vedere attraverso le scelte di questo e di quell'altro in quelle situazioni che ognuno di noi conosce il Beato colui che è chiamato Beato alla fine innanzitutto è no povero un ispirito uomo pretenzioso donna dalle grandi aspettative che si affida al Signore e faccio un esempio l'Apostolo Giacomo e il fratello Giovanni andando verso Gerusalemme fiutando il fallimento della situazione vanno da Gesù e dicono maestro se tu permetti quando morirai modestamente noi due pensiamo di portare avanti la baracca in un altro passo del Vangelo addirittura mandano la mamma a raccomandarli che pretesa è questa pretesa di servizio no perché al servizio non si può pretendere è una pretesa di comando è comunque una pretesa hanno seguito Gesù silenzio sono rimasti con lui a Gerusalemme hanno avuto paura Giovanni è l'unico che è rimasto sotto la croce con il giorno di Pentecoste si sono dispersi per annunciare il Vangelo Giovanni dopo cinquant'anni circa scrive Dio mi ha amato io pensavo di essere l'unico e invece il Signore mi ha dato se stesso ha dato se stesso per me lì alla fine della sua vita è stato povero in spirito e possiamo fare l'esempio con tutti gli altri beati i miti perché erediteranno la terra beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati beati i puri di cuore perché vedranno Dio beati gli operatori di pace abbiamo fatto l'esempio con due uomini parità dei sessi Esther la regina Esther viene scelta per diventare regina lei che non appartiene al popolo dei persiani a un certo punto dentro il castello il palazzo reale del re nel suo mondo viene chiamata dall'usio ebreo senti il tuo popolo rischia di essere sterminato la giorno tot a giorno tot perché qualcuno c'è cala in destra che gli ebrei devono essere sterminati stiamo parlando del 600 avanti Cristo tu che sei regina e che sei ebrea puoi mettere una parola di pace Esther dice se io vado dal re senza che lui mi ha chiamata mi ammazza e moriamo tutti Sansone e i filistei e si mette in preghiera e chiede Signore i nostri padri certamente hanno fatto quello che hanno fatto ora la tua ira ha suscitato l'invidia di alcuni e ci vogliono sterminare se sono qui e c'è una ragione io sono disposta anche a metterci la faccia e allora digiuna prega digiuna e prega fin quanto non arriva il momento in cui il re la manda a chiamare perché la vede digiunare è perché la vede in preghiera si incuriosisce che sta succedendo e lei spiega la questione se tu sei il re impedisci questo per questo popolo e non solo il popolo si salva ma anche gli invidiosi vengono impiccati al palo che avevano loro stessi innalzato per uccidere i capi ebrei beati gli operatori di pace in quel momento Esther regina per i fatti suoi eccetera eccetera viene chiamata si scomoda si affida al Signore e compie una missione di pace questo guardate è molto importante perché possiamo anche noi diciamo così fare uno scatto fare uno sprint nel cammino di fede e liberarci se si può da tutte quelle stupidaggini che ci fanno pensare che per questa vita dobbiamo patire dobbiamo soffrire e nell'altra gioiremo non è così in questa vita dobbiamo soffrire questa è la notizia cattiva ma c'è la notizia buona già in questa vita noi gioiremo l'unica cosa è rimanere agnelli e lasciare i lupi che abbiamo dentro da parte il santo è una persona che si scomoda proprio perché gli verrebbe ma sta fermo da dire da pensare da fare da organizzare semplicemente perché ha il diritto ha il diritto come già come Giovanni come Esther a me come ci porta direbbe in Villa Rosano Esther Regina nel mio mondo uno ha il diritto ma viene chiamato a scomodarsi e si affida e guardate che il Signore guardate che il Signore ci sta chiamando a scomodarci ognuno personalmente si fermi e nel raccoglimento si accorga indovini cerchi veramente di aprire gli occhi perché c'è una chiamata di Dio anche stasera nella vita di ognuno allora vogliamo pregare non i santi che sono in cielo e basta ma questi santi che siamo noi in cammino preghiamo gli uni per gli altri nelle prime comunità cristiane si chiamavano santi tra di loro ai santi della parrocchia un saluto e un augurio ai santi della nostra parrocchia speriamo che il Signore ci aiuti si chiamavano santi perché avevano questa sana sanissima diciamo così idea della presenza di Dio che quando una persona si scomoda che quando una persona insomma è pesante per le croci che ha addosso non perché vuole non perché pretende quando una persona in effetti è nel bisogno e giustamente è tra noi vuol dire che il Signore ci sta volendo bene ci sta consegnando se stesso attraverso gli altri e la santità è tutto quello che noi possiamo pensare di più normale quotidiano e ordinario ama il tuo nemico questo è il Vangelo questo è l'unico Vangelo di Gesù Cristo questo è tutto ciò che il Signore ci ha lasciato preghiamo perché gli uni gli altri nella nostra comunità nella Chiesa possiamo gareggiare a vicenda nell'accogliere lo Spirito Santo e nell'essere grazie allo Spirito Santo già su questa terra beati perché abbiamo consegnato e consegniamo tutto le chiavi del nostro cuore della nostra casa interiore a Lui perché ne prenda possesso e ci faccia eredi al limite eredi di ciò che è suo non nostro che Signore ci aiuti a vivere ogni giorno in cammino senza comodità convenienze compromessi che tradiscono il Vangelo e anche il senso profondo della nostra esistenza Amen in piedi mettiamo la nostra vita nelle mani di colui che ce l'ha donata a una sola voce con le parole della Chiesa diciamo insieme credo in un solo Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini per la nostra salvezza discesa dal cielo per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore dà la vita procede dal Padre e dal Figlio con il Padre e il Figlio è adorato è glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la resurrezione dei morti la vita del mondo che verrà fratelli e sorelle rallegriamoci nel Signore in comunione festosa con tutti i santi e le sante del cielo che oggi veneriamo come amici modelli e intercessori preghiamo insieme dicendo santifica il tuo popolo Signore Signore Tu hai detto siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste fa che la Tua Chiesa viva in continua conversione e che ogni suo membro tenda alla pienezza della vita cristiana noi ti preghiamo santifica il tuo popolo Signore Signore Tu hai detto chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore fa che i potenti della terra cerchino sinceramente il bene dell'umanità nello spirito delle beatitudini noi ti preghiamo Signore Tu hai detto voi siete la luce del mondo fa che i sacerdoti e le persone consacrate siano ricolmi del Tuo amore per diffondere con generosità lo spirito che anima i poveri i miti e i pacifici che Tu nel Vangelo proclami beati noi ti preghiamo Signore Tu hai detto beati coloro che ascoltano la parola di Dio fa che guardiamo a Maria tua madre specchio limpido di ogni virtù che rifulge di eminente santità nella celeste Gerusalemme noi ti preghiamo Signore Tu hai detto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli fa che l'Eucarestia a cui partecipiamo ravvivi in noi la speranza di sederci un giorno alla mensa del regno noi ti preghiamo preghiamo per tutti coloro che nella nostra comunità cittadina in queste settimane hanno contratto il virus caricandosi di grande disagio di grande sofferenza innanzitutto morale come se avessero commesso chissà quale oltraggio all'ordine pubblico che Signore ci aiuti veramente a aggiornare il database mentale che abbiamo perché siamo veramente bloccati e stiamo attenti nel puntare il dito nel dire cose che nemmeno gli stupidi direbbero con tutta la loro intelligenza il rispetto che bisogna avere per loro preghiamo invece e stiamo vicino a quanti adesso sono loro domani non lo sappiamo chi sarà una malattia è un momento difficile per tutta l'umanità non per alcuni e basta che Signore ci aiuti a stare vicino con il cuore con i fatti con la bocca e con il silenzio intelligente a coloro che sono nel disagio per motivi di salute e di coronavirus nella nostra città preghiamo i tuoi Santi o Signore ci insegnano che il mondo può essere trasfigurato e offerto al Padre incarnando lo spirito delle beatitudini per loro intercessione accogli le nostre invocazioni e i loro esempi ci attirino a te vivente nei secoli dei secoli Amen seduti guardaci guardaci Signore, siamo tuoi, piccoli siamo davanti a te, come ruscelli siamo d'acqua limpida, semplici e puri innanzi a te, le mani alzate verso te, Signore. Per offrirti il mondo, le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rentiamo grazie al Signore, nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza. Rente le grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in Eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino. Lieti per la sorte e gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli Angeli e dei Santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la sono pieni della tua gloria. O sanna, o sanna, o sanna, o sanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che che viene nel nome del Signore. O sanna, o sanna, o sanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzolo diede ai suoi discepoli e disse, prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto e in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Immacolata Madonna della Catena, con i tuoi santi apostoli e i gloriosi martiri, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venca il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola, io sarò salvato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio. Tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amen. Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. comunicati, pregando per i defunti e per il papa, si ha l'indulgenza per i peccati e le colpe commesse. Ma in questa emergenza, ma in questa emergenza, la chiesa italiana ha voluto che questa visita al primo, al 2 novembre, fosse diluita, fosse spalmata per tutto il mese di novembre. Per cui, alle condizioni della preghiera per i defunti, per il papa, confessione e comunione, visitando il cimitero in tutto il mese di novembre, si ha questo particolare dono che il Signore fa attraverso la Chiesa, del perdono dei peccati e delle colpe. Questo è molto importante. Ve lo dico giusto perché ci rendiamo conto e poi ognuno saprà come comportarsi. Vi ricordo che con il mese di novembre noi iniziamo come comunità una raccolta speciale di alimenti per i nostri fratelli bisognosi. Sia questo il segno concreto dell'amore che ascoltiamo nel Vangelo, ci raccomandiamo a vicenda, ma poi magari abbiamo poco tempo per vivere. Troverete sempre una cesta all'ingresso della Chiesa e qui ci sarà sempre un banco ai piedi di Gesù misericordioso, dove possiamo quello che possiamo nel piccolo, senza bisogno, è un gesto di carità importante, a cui vi raccomando di non fare, diciamo così, distrattamente attenzione. Invece mettiamo attenzione curata, premurosa, per i nostri fratelli bisognosi. Se poi vorrete anche farlo per la Chiesa, dato che non possiamo stare con i cestini tra i banchi e chiedere l'offerta, il Signore vi benedica comunque. Ma innanzitutto per i poveri, va bene? Poi per la Chiesa, se volete, i cestini sono nella postazione fissa qui nella navata centrale, e che il Signore ci aiuti, ne abbiamo bisogno, non solo a livello di salute in generale, ma proprio di salute interiore, di pace, di serenità. Ok? Buona serata a tutti, buona festa di tutti i Santi, buon mese di novembre. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarai con me. Tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità. Nella Tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai. Non avrò paura, sai, se Tu sei con me, io Ti prego, resta con me. Credo in Te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, l'uomo può meno. Morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con il cuore. Fino a quando io lo so, Tu ritornerai, per aprirci il regno di Dio. Grazie. 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 Grazie.